Nel rapporto 2018 sull'orso marsicano nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise vengono riportati i dati sulle varie attività svolte nel corso dell'anno. Monitoraggio, catture, orsi confidenti, misure di prevenzione, accertamento danni e indennizi, ispezioni del nucleo cinofilo antiveleno, monitoraggio sanitario, attività di comunicazione e progetti in corso, oltre agli aggiornamenti delle regioni e delle altre aree protette, alle pubblicazioni scientifiche più recenti. Tra i risultati positivi il Parco segnala il fatto che il 2018 è il terzo anno consecutivo nel quale si osservano da 10 a 12 nuovi nati nella popolazione, che sono tra i valori massimi registrati dall'anno 2006, cioè da quando il conteggio delle femmine con i cuccioli è realizzato con regolarità e con la stessa metodologia. Un altro risultato positivo è rappresentato dalla femmina con tre cuccioli che si è riprodotta nel Parco della Maiella, un evento non unico ma sicuramente eccezionale per le caratteristiche dell'orsa peppina, quella abituata a predare i pollai, che si muove in un ampio territorio, dentro e fuori le aree protette. Gli sforzi compiuti per monitorarla, in assenza di radiocollare e gestire le problematicità legate alle predazioni anche in territori non più abituati a convivere con l'orso, sono ripagati dalle immagini di peppina con i tre cuccioli cresciuti di un anno. Il 2018, dichiara il presidente Antonio Carrara, è stato anche l'anno di avvenimenti che non avremmo voluto raccontare, la femmina con due cuccioli annegati in una vasca di montagna, l'orso morto per un'emergenza anestiosiologica durante la cattura, un atto di bracconaggio molto probabilmente avvenuto nel 2017 nel versante laziale, avvenimenti che ripropongono tutti i problemi che abbiamo di fronte nella conservazione dell'orso marsicano, una mortalità illegale più ridotta ma difficile da zerare, una mortalità accidentale che richiede un maggiore impegno e attenzione da parte di tutti, soprattutto nel ricondurre tutte le attività nell'ambito delle regole che pure esistono.